Ragazzi, abbiamo qui con noi una leggenda, probabilmente, forse una delle persone con più talento che conosciamo, ma soprattutto con un sacco di storie da raccontare. E qui con noi oggi il signor Crapanzano Giacomo. Detto anche Gino Tarantella. Gino Tarantella, ciao ragazzi, grazie mille. Abbiamo una tradizione, devi lanciare la sigla. Come si lancia la sigla? Sigla. Sigla. Ragazzi, mentre andate qui sono messo a fuoco, nuova intervista, nuovo ospite, fantastico. Jack, come stai innanzitutto? Benone, benone, benone. Arrivi da un 2022, cioè definirlo di fuoco riduttivo. Sì, 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 diciamo che settimana scorsa appena finito tutto, ho dormito, ho fatto una cura del sonno per una settimana, dieci ore al giorno, per sei giorni, bellissimo. Bene, allora, per chi non lo conoscesse, ovviamente, Jack è un filmmaker, ti possiamo definire così ormai, regista, fa un miliardo di cose, adesso gliele faremo raccontare in questa puntata. Ma innanzitutto raccontati un po' anche perché tu sei giovanissimo, benché questo lavoro ti abbia piallato e sei il più vecchio di me, cazzo, però... Ma non di me. Solo complimenti. Tu, lasciamo vedere. Cioè, veramente scandaloso. Cosa fai nella vita, quindi? Io faccio il filmmaker, quindi video di qualsiasi tipo, in realtà mi sono specializzato nello sport perché è l'ambiente che personalmente mi interessa di più, mi piace tantissimo fare sport di tutti i tipi, soprattutto all'aria aperta, e da sette anni a questa parte, in realtà, sette, sì, no, molti meno, che cazzo dico? Tu sei del 98. Io sono del 98, 24 anni. Ho iniziato nel 2017 e appena finito il liceo mi hanno, questa agenzia di Torino mi ha chiesto di andare a lavorare per loro perché io già pubblicavo i miei videini su Facebook, infatti grazie a loro perché, chi cazzo, io non mi sarei mai preso nel 2017 con quello che pubblicavo. Però sì, da lì ho iniziato e adesso faccio il freelancer, principalmente filmmaker, ma anche dall'ultimo anno regista. di docu-serie, documentari, principalmente. Mi piacerebbe poi, con gli anni, specializzarmi e sviluppare un po' di più la mia capacità registica in, non so, commercial, spot, cose del genere. Però mi piace un sacco quello che faccio, mi diverto tantissimo perché mi permette di vedere un sacco di posti nel mondo e di fare esperienze un po' strane. Per inquadrarti, cioè diciamo che filmmaker, eccetera, ma per chi? Per chi, per cosa? Per il panificio sotto casa, ecco. Ho avuto la fortuna anni fa di iniziare a lavorare abbastanza con Red Bull, quindi ambito sportivo, sport estremi, ho iniziato con gli eventi che Red Bull Italia organizzava in giro per l'Italia e poi adesso collaboro abbastanza con continuità tramite case di produzione anche con Red Bull Media House, quindi la serie centrale di Red Bull in Austria che si occupa delle produzioni. E ho anche altri clienti, quest'anno ho lavorato tantissimo nel motorsport, ho realizzato una docu-serie appuntate nel paddock di MotoGP e ho lavorato per dieci gare nel paddock di Formula 1 che mi ha portato parecchio in giro per il mondo. E poi in mezzo alle varie trasferte sono riuscito a inserirci un paio di campagne. Del dubbio, per non farci mancare assolutamente di... Solitamente quando qualcuno ti dice ho altri clienti ti risponde il panettiere sotto casa. brand di motocross, brand di ciclismo, non so, probabilmente conoscere te Scott, Motoguzzi, cose... Due brand a caso insomma, perfetto. Beh, questo è per farvi un po' capire chi vi stiamo portando ragazzi, minca pizza e fica, minca... Che cazzo? Beh... Cos'è che hai detto? Pizza e fica ha un nuovo gusto. Eh, lo fanno qua nella pizzeria di fronte. La reginella lo fanno. Bello. Noi ci conosciamo da quando entrambi iniziavamo veramente all'inizio. Tra l'altro io vorrei fare un momento aneddoto. Se non ricordo male, perché secondo me io ero presente, il video sul tuo canale in cui mostravi il primo studio, la camera che si muoveva era Jack. Era Jack su Ronin. Che poi quello stesso giorno avevamo provato a montare l'FS5 su Ronin ed eravamo casatissimi. E io mi ricordo una cheat di Jack che disse Simo corre così veloce che vorrei fare le riprese alle Formula 1. Veramente? No. Ma secondo te poi è asmatico, cosa deve correre? Tra l'altro Jack è stato anche il montatore della serie che abbiamo fatto io e Donna Twins alle Iron Dames. Sono Iron Dames che tra l'altro, aneddoto che probabilmente non metteremo... Jack, allora tu hai iniziato da giovanissimo, 17 anni. Sei di Monza insieme a... Abbiamo già conosciuto Giomo qui sul podcast. Posiamo dire Monza Sforna dei ragazzi bellissimi. Esatto, ho riso tantissimo. Bravi e belli, incredibile. Forse siamo andati palesemente nel posto sbagliato. Io, Manu, corregio. E San Damiano d'Asti, patria del Capone. Vero, non sto scherzando. Comunque, ma stiamo sempre come sempre, andiamo fuori. Per la tangente. Come si inizia a fare video a 17 anni? Perché, cioè, non è che ti svegli un giorno e fai... Tu che scuola facevi? Allora, io ho fatto il liceo classico, per cui non c'entra assolutamente niente. Ho iniziato da piccolissimo, perché ho avuto la fortuna di avere mio padre, che era appassionato di fotografia a sua volta, e quindi da quando avevo tre anni, mi ricordo, di aver trovato nel luogo di Pasqua una macchinetta a rullino usa e getta, io ho iniziato ad andare in giro e ho ancora quegli album lì, delle mie foto di quando avevo quattro anni. Ossia fotografavo piante, il cancellino di casa, il mio cane, queste cose qui. Penso che tutti quanti l'abbiamo fatto, tra l'altro. Io l'ho fatto, io pure. Però partendo da lì, poi fotografia, fotografia, ma senza impegno in realtà. Era una cosa che avevo lì, vedevo mio padre che faceva le foto, io mi gasavo, sai come vuoi, per emulazione, quando sei piccolo vuoi sempre provare quello che fanno i tuoi genitori o il tuo fratello più grande. Mio padre fa il medico e non ho mai provato a operare qualcuno. Non giocavi alle gruppi. No. Non hai mai tagliato una tua compagna così a metà aperta? No, una volta ho provato però a operare alcune mia sorella. Mio papà costruiva case, ma io non l'ho mai provato a tirare su un muro. Non hai mai fatto così, con i mattoncini piccoli. No, però ogni... Vabbè, comunque. Comunque, niente. Alla fine, anni dopo, non mi ricordo quando, quando ero uccita la GoPro, Hero 2, io ho sempre sciato insieme a mio fratello e uscito la GoPro Hero 2 ho detto cazzo, dividiamoci il costo in due con le mance di mamma e papà, compriamoci la Hero 2 e iniziamo a farci video a vicenda. Da lì ho iniziato a sperimentare col montaggio basilare, vedevo online, c'era questo ragazzo fortissimo italiano che si chiama Alexander Melis, Meli su YouTube, che fa dei video di sci della Madonna e già li faceva anni fa al tempo. e lui era fortissimo anche con After Effects, faceva queste grafiche col 3D tracking che ti dico nel 2012, era tremendo ma era avanguardia. Ti serviva anche un computer della NASA per farlo. Esatto, esatto, io usavo l'iMac di mio padre. E quindi ho iniziato a sperimentare con lì, con il montaggio basilare, un po' di grafica, un po' di After Effects. Non ho mai avuto una macchina fotografica fino a poi quando ho iniziato a lavorarci, mettiamo questa cosa. Per inciso usavo macchine fotografiche in prestito da amici o cose del genere, però avevo fatto un salto troppo avanti. Vabbè, GoPro dopo GoPro dopo GoPro. Arrivo alla Hero 5. Non le ho comprate tutte, sono passate dall'Hero 2 all'Hero 4 Session, che mi era arrivata per Natale, poi alla Hero 5 che mi sono comprato io con i miei soldi, ero gasatissimo, mi sentivo re del mondo. Sono indipendente. E lì ho effettivamente iniziato a fare video con coscienza, per cui erano, cosa intendo con coscienza? Erano video pensati, non ero io che uscivo a sciare, mi filmavo e poi quello che riuscivo a tirare fuori tiravo fuori. Provavi a raccontare qualcosa. Esatto, ho fatto questo micro short film di due minuti e mezzo dovevo la GoPro in testa e mi teletrasportavo con delle transizioni basilare tipo... Oppure... Tipiche transizioni. Comunque posso dire, tutti, almeno una volta, anche chi non fa il videomaker, ha provato a fare questa roba qua. Sì, sì, sì. Beh, ma capisci? Lì capisci effettivamente che se la clip precedente e la clip successiva hanno qualcosa in comune, cazzo, la storia ha un certo senso e capisci che per giustificare il passaggio da un posto all'altro devi avere un qualcosa di visivamente accattivante o che abbia un filtro che ti porta da un posto all'altro. Quello, secondo me, è interessante soprattutto che... Lo so. Vabbè. Sti cazzi. Tutto chiaro. Momento parte. Momento ha capito. E quindi... E quel video lì è stato visto da GoPro che mi ha ripostato sui suoi canali. Cazzo, gli ho detto bene. Fatta, sono arrivato. Esatto. Tra l'altro io a scuola ho avuto... Io ho vissuto malissimo il mio liceo, veramente malissimo. Strano. Mi sentivo... Non capito. Ero depresso. Non volevo fare niente. Stavo in casa giorno e notte a studiare, ma in realtà non studiavo perché a scuola non andavo benissimo. Quindi era più un mancanza di motivazione nel vivere, diciamo. Un copione già sentito su me stesso. Anche perché immagino che sia successo anche a te, i miei professori non mi capivano, pensavano che io perdessi solo tempo, che non studiassi e basta, fossimo fallito. Io spero mi stiano guardando in questo momento e gli auguro di andarsene a fare nel culo. Detto dal più profondo del cuore. Lo spero sempre. Tutti tutti va? Esatto. Qualcuno lo sa. Chi sta guardando questa puntata adesso e sta ascoltando sa che se ne deve andare a fanculo. Qua dentro lo sa. Se lo sente, anche se non lo sta guardando, secondo me. Gli fischiano le orecchie. E quindi niente, avendo ricevuto questa botta di dopamina, possiamo chiamare, o botta, mi sentivo capito e approvato da un brand come GoPro che io ho sempre e soltanto visto come tipo il benchmark per le cose migliori al mondo, anche perché nel 2012 i video che facevano loro non li faceva nessuno. No, nel 2012 GoPro era un brand serio e non una merda. Servivo. Esatto. Io mi ricordo il video dell'Aero 2, cazzo, avrò guardato 200 volte quel video lì, pazzesco. E niente, quindi da lì ho capito, cavolo, ma se mi ci metto veramente, allora qualcuno capisce quello che faccio e quello che mi piace fare si allinea con quello che piace alla gente, diciamo, tra virgolette. Poi in realtà è sbagliato fare le cose perché piacciono alla gente. Però quanti anni avevi? 17? Meno, ne avevo 15. Però possiamo dire che tutti noi, tutti e anche tutti quelli che stanno guardando, alla fine facciamo questa roba qua perché è una forma di ricerca di approvazione. È una droga, cioè quando io finisco un video e lo mandi al cliente, il cliente dice cazzo che figata, lo pubblichi, vedi che fa numeri, vedi che è una droga ragazzi. Quindi non nascondiamoci dietro il dito che è tremendo perché andiamo sempre tutti quanti a parlare. Alla fine comunque viviamo con quello che ci piace fare che è già un lusso che non dobbiamo mai dimenticarci. Assolutamente. Quando ti sei reso conto però che, ok, hai fatto tutto questo bel racconto, le storie, i cazzi, le cose, quando ti sei reso conto che effettivamente potevi campare con questa roba qua? O potevi cominciare ad entrare nel mondo del lavoro? Allora, campare in realtà è stato, non c'è stato un vero momento di transizione dove ho capito che potevo farlo per campare e quindi ho iniziato a darci più peso. In realtà ho avuto tantissima fortuna perché io pubblicavo questi miei videini su Facebook, su YouTube, facevo ad esempio i video di recap delle feste della scuola, non con la mia macchina fotografica perché non ce l'avevo, avevo queste mie compagnie di classe, sai quando a 16 anni regalano, non so, per il compleanno la reflex alle ragazze per farsi 1200D. Io avevo un 80D che già era una gran macchina, sti cazzi, e quindi io chiedevo in prestito questo 80D a questa mia amica e facevo i video recap delle feste, li montavo, le pubblicavo e via così, e questa agenzia di Torino che io amo, anche se poi me ne sono dovuto andare perché gli interessi sono un po', avevo interessi diversi, ho deciso di iniziare a prendere la strada di libro professionista e loro mi hanno scritto, mi hanno chiamato, mi hanno scritto su Facebook, non mi ricordo perché pubblicavo i miei video sui gruppi di Facebook che un tempo erano fortissimi, e niente, semplicemente mi hanno chiesto ciao, noi cercheremo qualcuno per darci una mano quest'estate, perché io ero vicino alla maturità, quindi era tipo giugno, per darci una mano a lavorare su questo progetto dove dovremmo viaggiare in queste 3-4 mete in giro per l'Europa e fare questi mini videini, non ci serve uno che abbia esperienza, ci serve uno che tenga in mano la camera e che faccia da junior operatore, beh te l'hanno venduta bene direi, ti è molto stimolante, ti serve un treppiede che respiri, però pensa io studente depresso del liceo che rischiavo di non passare la maturità a sentirmi dire guarda ti porteremo in giro per l'Europa a fare video in posti tipo Corfu sulla spiaggia sti cazzi, e quante volte ho detto sti cazzi, purtroppo, guarda, è la prima volta, non è un podcast, comunque puoi dire quello che vuoi, e niente, quindi in realtà all'inizio l'offerta l'avevo rifiutata, perché io ero messo malissimo con la maturità, contenti i tuoi genitori, esatto, ragazzi, i miei genitori erano contentissimi perché all'inizio lo saprete meglio di me quando dici, ah voglio iniziare a fare video per lavoro, ti guardano un po' strano, si si si, ti prendono sempre come un coglione, saluti miei, ma penso i genitori di tutti quelli che ci sta, li comprendo da un lato. E quindi niente, all'inizio rifiuto l'offerta dicendogli ragazzi io sono messo troppo male con la maturità, rischio di perdere l'anno, tenetemi in considerazione, vi scriverò una volta finito l'anno, ma se per questa volta dovete trovare qualcun altro, non fatevi problemi, cioè purtroppo sono messo così, e nel frattempo infatti ero andato avanti con l'iscrizione all'università, io dovevo iniziare a fare video design all'OIED, cercando di fare, in realtà avevo vinto la borsa di studio con un video che dovevo fare perché costava troppo, obiettivamente è un'università costosa, vero? Eh, esatto. E quindi l'ambito, fai solo IED, solo IED, che però è una figata, cioè quando vai all'open day ti gasano tantissimo per vedere lo studio. Anche io ero andato all'open day dello IED, ho detto merda, e adesso il mio studio è più grosso di tutta la dittatura che ha lo IED. Esatto. Lo IED ha un robot, Matti? Zuccare. Lo IED ha due FX3? A3, Mac Studio, di cui uno buttato a prendere polvere? Lì gli hanno. Lo IED a ciccio che monta? Conta che quanti studenti avranno all'anno? Ricordiamo che l'OIED ha dato 30 a ciccio di Photoshop e non so scontornare un'immagine. Ah, veramente. Ma questo è un dettaglio che... Dave, tu non ridere mentre stai montando che ti faccio un culo così pure a te. Ma lui monta da qua o monta... No, da casa. Monta da casa quel sacco di palle. Perché lui è te... Ciao Dave, non ti conosco, ciao. Lui è te a 17 anni. Ah, grazie. Esatto. Tieni duro, cazzo. Batte la fanca. Io non lo motiverai troppo, che è un po' particolare. Ah, ok. E quindi niente, mi fanno queste offerte. Io ero entrato all'università, cioè io ero già... avevo già il numero di matricola, ero già dentro. Ah, minchia, proprio. Esatto. Però finita la motorità, questa sensazione di sollievo incredibile, mi sentivo... volevo spaccare il mondo. Al che ho scritto di nuovo a questa agenzia dicendo gli ragazzi, guardate che è andato tutto bene, e sono libero. Sono libero. Bellissimo. Non mi interessa fare vacanze quest'estate, se voi mi fate lavorare in realtà è anche meglio, perché è quello che voglio fare. Mi ci sono buttato a capofitto. E mi hanno detto, guarda che il posto c'è ancora, quindi vieni con noi. Vieni a fare questa prima settimana di test, sono andato a Corfu, ero affiancato a quest'altro operatore, abbiamo fatto tutta la settimana di riprese, non riprese. Era... adesso non voglio dire il nome del... vabbè. Vabbè, uno di quei posti che ti portano in vacanza, eccetera. Esatto, esatto. E quindi faccio la prima settimana, faccio tutto quello che devo fare, destino, botta di culo, l'operatore che doveva andare la settimana dopo di me si ammala. Di covid? Non penso. No, si era tipo rotto in piede, una roba del genere, non mi ricordo. Poverino. E quindi cosa fanno? Mi guardano. Mi fanno, guarda che in realtà non ci dispiace come lavori, sei uno responsabile, cosa importantissima, importantissima. Il primo lavoro che prendete, se non vi dimostrate responsabili, anche se siete bravi, ma non siete responsabili, nessuno vi darà fiducia. Guarda, io ne so qualcosa. Guarda, potrei lasciare a perdere. È la cosa più importante, più importante di tutte. Cioè se ti mostri responsabili, anche se non sei il più schillato di tutti, cioè era il mio primo lavoro. La differenza tra un professionista e uno professionale. Esatto, esatto, certo. Però essere professionale ha i suoi pro, anche se non sei già un professionista, essere professionale già ha il suo. E quindi niente, mi hanno chiesto di lavorare la seconda settimana, ho lavorato la seconda settimana, mi hanno chiesto di dargli una mano per monticchiare questo after movie finale dell'anno e hanno visto che come montavano li dispiaceva, sotto indicazione ovviamente non facevo quasi niente di mia spontanea, di mio intento. No, come è giusto che sia. Era un robottino che faceva quello che serviva a fare e poi mi hanno chiesto di montare. Alla fine mi hanno detto, mi hanno chiesto sempre di più di dargli una mano e poi a fine settembre è finito l'after movie, fanno senti, noi avremmo bisogno di qualcuno, di forza, lavoro in più. Ma se ti fermassi qui e iniziassi a lavorare per noi, io, oddio, io avevo già l'università, vi vedevo già le telefonate con i miei genitori dicendo di mamma guarda che non vado all'università, mi fermo qui a Torino a lavorare, invece per fortuna sono stati super comprensivi. È stata un'esperienza di vita. Quindi sei trasferito a Torino a 18 anni? Mi sono trasferito a Torino a 18 anni con uno stipendio di 400 euro e pagavo 320 euro di affitto. Stavo, 80 euro per mangiare. Tornavo il weekend a casa a Milano e lavoravo anche il weekend per poi poter pagare la spesa o avere qualcosa lì. e ho fatto così per i primi 6-7 mesi, ma in realtà la casa non l'ho trovata subito. Ho dormito in un sottoscala per un po' di mesi e la volontà era tanta. La tua prima camera quando è arrivata? La prima camera è arrivata quando mi hanno assunto. Loro avevano un Alpha 7-1S che era dismesso, loro usavano già l'Alpha 7-S2, quella lì non la usava più nessuna. Mi fanno, guarda, ti veniamo incontro con lo stipendio, riduciamo un po' lo stipendio e ti tieni la camera. Allora ho preso la mia prima camera, la 7-S, senza... L'unico acquisto vero per cui ho lasciato un reno è stato, ho comprato un 16-35mm f4. Che tal te è ancora adesso quello bianco? No, no, sono passato... Sì, l'anno dopo quando ho visto come girava... No, in realtà quando sono diventato freelance e che ho dovuto iniziare a usare le mie camere, lì ho cambiato tutta l'attrezzatura, ho preso il 2.8, sono passato ad avere tutte le lenti G Master. Parleremo dopo di attrezzature. Esatto, però è andata così, l'inizio è andato così e cazzo che figata ripensarci, un po' mi manca la mia casetta a Torino, un po' il sentirsi... Cioè, in realtà in certo ti senti sempre quando sei freelance, è un po' una vita di stenti. Però è veramente figo pensarci com'è andata, poi hai quei momenti dove ti fermi un attimo, guardi indietro e dici cazzo... Ho fatto tutta questa strada. Che forza di volontà, però... Sì, 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 e quindi è andata così. Ho lavorato a Torino per due anni e mezzo? No, meno, non mi ricordo. Dal 2018... Sì, ho iniziato... Settembre 2017, sono andato via a marzo 2019. Quindi sì, un po' meno di due anni. Ho imparato tantissimo, cioè ho imparato... Sono passato dall'essere un ragazzino che faceva video in camera sua a uno che riusciva a capire... Infatti è importantissimo, secondo me, farsi una palestra con gente più brava. È la cosa più importante. Ho imparato a capire, a interpretare un brief, il brief di un cliente, e quindi a capire che cosa vuole un cliente quando mi chiede determinate... mi dà determinate indicazioni, come approcciare il cliente. E quindi se il cliente mi scrive una mail direttamente, come rispondere a quella mail? Ho visto che nel podcast scorso parlavate di email. Cazzo, ragazzi, è importantissimo. Anch'io ogni tanto... Guarda, l'altro giorno c'era una mail sul crop, un tizio mi ha scritto Ciao, vorrei lavorare per voi, questo è il mio portfoglio, fine. Non mi ha detto se fa il fotografo, se fa il videomaker. Cioè, secondo te, no, quella mail... Perché adesso occupa spazio del mio gestito? Eh sì, e quello è importantissimo. Che non vuol dire essere troppo formale, cioè non vuol dire mettere le L maiuscole quando scrivi chiederle o tutte queste menate qua. In realtà basta essere chiari, con la punteggiatura giusta, le maiuscole e poi le informazioni che deve avere un'email sono 4C cioè tutto quello che deve esserci è che vorresti tu te stesso leggere in un'email che ti arriva da qualcuno, in sostanza. Però non è scontato. No. Non è scontato, purtroppo. Non posso garantirti che non è scontato. Dici tutto, Manu. E quando è che sei passato da fare i video alle ragazzine sulle spiagge con i culi al vento a fare video a dei maschi sudati su delle moto e delle auto? Allora, in realtà non è stato così rapido. Nel senso che io sono nato e cresciuto a Monza per cui il motorsport è sempre stato abbastanza vicino. C'è l'odore di benzina. Io sono cresciuto, però non ha avuto in realtà, non c'entra niente il fatto che... C'entra relativamente in realtà il fatto che abiti a Monza. Sono cresciuto sentendo i rumori della Formula 1 ma la mia vera passione non è mai stata le macchine o le moto. Io avevo la mia moto, comunque andavo in giro, mi piaceva guardarle in televisione la domenica con mio padre però non ho mai avuto il desiderio di lavorare lì. Il mio desiderio vero, e lo è ancora tuttora, è lavorare all'aria aperta in generale, nella natura. Abbiamo visto che l'ultima settimana fa eri appeso a un'attività. Esatto, tipo quello è il mio lavoro da sogno. Arrampicarmi nel... Fighissimo, fighissimo. E poi ci arriviamo a raccontare dopo anche che cosa è stato magari. Però niente, divento freelance nel 2019, avevo i miei contatti già a Milano, cioè non è che a... Non mi sono buttato nel buio da un burrone senza avere nessun cuscinetto su cui atterrare. Ho mollato il lavoro a Torino sapendo già che avevo dei contatti a Milano. Arrivo a Milano, avevo fatto dei lavorettini con Red Bull Italia e i ragazzi... Tipica cosa che uno fa a 21 anni. Conta che in realtà, sì, poi... La richiesta... Ci sono tantissimi tier diversi, diciamo, diverse tipologie di richieste. Cioè gli eventi richiedono una capacità basilare, perché... Sì, relativamente basilare in realtà. Sì, stiamo parlando anche di tanti anni fa, forse. Tanti anni fa anche il livello medio di chi faceva foto e video era veramente molto basso. E quindi forse c'era meno competizione, non lo so. Oddio, non parliamo di vent'anni fa, parliamo di quattro anni fa. Però secondo me c'era davvero meno competizione. Ma banalmente perché non si aveva accesso a un sacco di materiale per poter iniziare. Perché anche voi avete avuto il mio stesso problema, l'ho detto mille volte, quando io ho iniziato non c'era un cazzo su internet praticamente. No, non c'era un cazzo su internet, ma anche comprare attrezzatura. Costava di più, cioè. Con 1500 euro ti compravi una reflex puzzona che non faceva manco video. Esatto. La 5D Mark II che costava un botto, madonna. Ed era... Esatto, era la camera. Io l'ho usata all'inizio. Bellissimo, fu il freno. Quanta luce che entra qui dentro. Stanno aprendendo il senso da spacchi per dopo un minuto. Per fermare la porta. Salutiamo Canon sempre che... È incredibile come... Qualche modo si prende un insulto random. No, in realtà a me, devo dire, lavorando in Formula 1, poi ci arriviamo perché, attenzione, Formula 1. Canon è uno dei... Di realtà Sony è il più utilizzato, Canon è il secondo più utilizzato. Tutti usano R3, tutti. No, puoi dire la camera che hai visto tanto sulle piste? L'Alfa 1, infatti lui mi dice che vorrebbe un Alfa 1, ma tu non gliela vuoi prendere. Ancora con sta storia del cazzo. Tutti usano l'Alfa 1, tutti. Davvero, tanti così. Tutti, anche chi fa video usa l'Alfa 1, invece della 7S. Io no, perché? Dai zitto. Figo. E quindi niente. Non posso fare poco. Red Bull Italia, eventi su eventi. Fortunatamente Red Bull Italia è una fucina di contatti incredibili. Eh, immagino. Cioè, la cosa bella di Red Bull Italia, di Red Bull in generale, è che il loro approccio, loro non sono gelosi di chi lavora con loro, ma anzi, se qualcuno gli chiede il nome di un operatore perché ne ha bisogno, un brand esterno arriva e glielo chiede, loro sono molto propensi a condividere i nomi. Eh, questa è una cosa molto bella. Ed è una cosa bellissima, perché mi è capitato di lavorare con altri, invece che... Anche perché penso che la contaminazione comunque porti la gente a migliorare. Assolutamente. Red Bull ti ha mai mandato una cassa di Red Bull a casa? Purtroppo no. E sai che è tipo il mio sogno nel cassetto da, penso, vent'anni. Dai, allora organizziamo e te ne porto qua. E voglio chiederti una roba. Tu hai vissuto un percorso da avere una Hero 2 a effettivamente girare, possiamo dire, con quello che cazzo vuoi. Sì, ormai giro Red, Black Magic, qualsiasi cosa. Flex? È una classica domanda, però secondo me si sottovaluta sempre poi l'aspetto effettivamente pratico. Sull'attrezzatura, quanto è stato importante sia l'upgrade e sia quanto per te è importante avere effettivamente la giusta macchina in mano nel momento giusto? Cioè quanto ricerchi anche tu? Chissà che anche tu sei bello in pallinello con la roba. Sì, abbastanza. Allora, io sono possessore di corredo Sony, ma perché in realtà ho iniziato con quello e quindi un po' ti limita l'inizio, cioè tu inizi ad avere un corredo di alcune lenti, alcuni corpi macchine, quindi poi è difficile riuscire a liberarsene in blocco per cambiare completamente. In realtà non è che sono rimasto con Sony perché ho tutte le lenti Sony. Io mi trovo bene per la maggior parte dei lavori che faccio la posso utilizzare perché è comoda, è veloce, soprattutto veloce e i file non pesano uno sproposito e quindi è comoda. In realtà più esperienza fai e più fai esperienze in progetti diversi, capisci per il tipo di progetto che camera ha bisogno. Esatto. Per cui ad esempio se io devo girare uno short film che non abbia bisogno di essere... Non so, quando penso a Sony mi viene in mente il contenuto pulito, quasi sterile... Ma puoi dire che cazzo vuoi? Puoi dire quello che vuoi, Jack. Guarda, per me puoi dire... Tanto sono cazzo di simo con Sony, non mi è. Non mi viene in mente il contenuto pulitissimo, senza grana, senza rumore, col fuoco perfetto e forse quasi sterile a volte. Ho sentito un fuoco perfetto. No, perché c'è chi dice che l'autofocus delle Sony non è così buono. No, saluto ovviamente sempre agli grandi. A me viene in mente Sony. Oppure contenuti social rapidi, per cui ad esempio ci arriveremo a parlare del lavoro in Formula 1, a volte hai un'ora per girare, montare e buttare fuori un contenuto e se non usi una camera come Sony e insieme a Sony delle macchine performanti tipo gli M1 nuovi che mi hanno aperto la vita, non ce la fai. Cioè se dovessi girare in Blackmagic per poi montare, che poi se gira a 50 frame però l'audio è rallentato... Poi bello l'SSD, i file tutti proresso... Sì, però ad esempio Blackmagic la uso in MotoGP, giriamo in Blackmagic perché è una docu-serie che non viene montata live, ma archiviamo tutto il footage durante il weekend di gara, lo portiamo a casa e a casa c'è il montatore. Esatto, esatto, esatto. Oppure settimana prossima io dovrò girare un video di lancio di un prodotto nuovo che vuole essere, siccome sarà una storia che andrà a pescare nel passato di questo pilota, voglio che sia con questa pasta un po' diversa, un po' più morbida... anche il fuoco che ci sia un po' meno, uso delle lenti vintage perché mi piace tantissimo avere l'aberrazione che sia un po' tutto... che lo renda omogeneo con le immagini della VHS che avrà girato suo padre quando era un piccolino. Sì, mi trovi d'accordo perché questa cosa delle Sony che hanno questo look è troppo pulito. È troppo perfetto. È troppo pulito. È quello che disse anche io in un video e l'ho notata tanto. Tant'è che ad esempio tipo con Blackmagic giro rarissimamente con gli isonativi perché sono fin troppo puliti. Di solito giro i iso 800 che ha un po' di grana perché mi piace di più. Però secondo me questa è la parte figa ed è il motivo per cui continuo sempre, costantemente a dare importanza all'attrezzatura proprio perché poi fa parte del tuo linguaggio. È il mezzo con cui poi dopo ti esprimi. È un po' come se fosse la tua voce. Concordo. E poi la cosa bella è che più fai esperienza più questa cosa ti viene un po' naturale. Pensi a un tipo di progetto e ti viene in mente che cosa vuoi usare ed è una figata. E il rental qui ti salva la vita perché non è che io non ho tanta attrezzatura di mia proprietà. Cioè io ho le mie quattro lenti i miei due corpi macchina il computer un paio di microfoni ma non ho cioè Blackmagic a noleggio o noleggio cioè il noleggio ti salva la vita veramente perché magari e poi soprattutto la puoi mettere fuori al cliente. Sempre pensare il caro sul cliente. Esatto. E prima hai parlato della MotoGP e della Formula 1 e hai detto che sono due progetti molto molto diversi tra di loro. Sì esatto. Anche proprio parlano della camera però fondamentalmente da quello che si capisce. Sono dei progetti molto molto diversi. Uno è molto lento e uno è molto veloce. Esatto esatto. Domanda stupidissima quale preferisci fare? Allora è una bella lotta allora in MotoGP c'è uno stimolo in più perché in MotoGP io sono regista di questa docu-serie regista e camera in alcune gare per cui c'è un impegno proprio diverso cioè io le settimane prima mi trovo a scrivere lo script a ragionare sui temi ho dovuto nell'arco del tempo costruire un rapporto col pilota che seguivamo perché comunque si può dire che si Jack Miller e quindi dal Qatar a marzo quando ho fatto la prima gara a Valencia di un mese fa il rapporto tra me e lui è cambiato tantissimo cioè io nel frattempo sono stato a casa sua ho conosciuto sua moglie che non era sua moglie quando l'ho conosciuta all'inizio nel frattempo si è sposato lui ci aveva invitato al suo matrimonio e quella è la parte più figa di tutte cosa che dall'altra parte nella Formula 1 è un mondo talmente veloce che purtroppo fai più fatica a costruire i rapporti umani diciamocelo proprio un po' allora io non sono premetto io non seguo né MotoGP né Formula 1 però le poche volte che ho visto qualcosa ho percepito questa differenza di velocità ne parlavamo anche prima off camera la percepisco parecchio a MotoGP li vedo tutti molto c sono più sì diciamo che in Formula 1 c'è più business c'è proprio parole povere lo vedi anche è tutto molto più posh è tutto molto più premium e quindi inevitabilmente in Formula 1 ovviamente a grandi linee ragazzi perché non possiamo dire tutto perché ci sono dei vincoli a grandi linee puoi spiegare di cosa ti occupi in Formula 1 principalmente video social quindi contenuti per Instagram TikTok Facebook quello che quello che capita ed è un lavoro molto diverso dalla MotoGP perché in MotoGP abbiamo queste dieci puntate che sono pensate si arriva in circuito con uno script per cui magari fai delle domande al pilota che ti sono utili a poter portare avanti lo script per come l'hai sviluppato perché poi in realtà essendo un lavoro documentaristico fai uno script ma non sai mai come vanno le cose esatto esatto per cui è sempre in aggiornamento sempre in aggiornamento in base a come vanno le cose però ti aiuti un po' con queste domande almeno il tema principale della puntata te lo porti a casa lo stesso e poi ci costruisci intorno il resto invece in Formula 1 è social quindi giri i monti fuori nel giro di qualche ora tante volte capita magari arriva una richiesta la mattina si scopre che c'è questa nuova cosa e tu nel giro di due ore devi ideare girare montare e poi deve essere pubblicato che a volte anche fin troppo ci arrivi a fine giornata a volte che io arrivo nel letto in albergo e sei morto perché mentalmente è super stancante però è fighissimo dall'altra parte perché vedi un post vedi un ambiente che è esclusivo obiettivamente cioè non tutti hanno la possibilità di esserci e mi rendo conto di essere molto fortunato non a tutti piacerebbe essere nella mia situazione assolutamente perché non è che cioè non so mi stavo cercando di fare un paragone con qualcos'altro ma balziamo e poi vedi un sacco di posti nel mondo cioè io quest'anno ho fatto 12 gare in MotoGP e 10 in Formula 1 per cui ho fatto 22 gare non mi ricordo però mi sa che ho perso il conto vabbè più o meno 22 gare vuol dire che io ho visto 22 posti in giro per l'Europa per il mondo io quest'anno ho visto l'Indonesia ho visto il Brasilia ho visto gli Emirati Arabi due volte sono stato a Singapore sono stato in Giappone due settimane e se ci pensi è pazzesco come si trova l'equilibrio perché poi ovviamente sai è tutto bellissimo perché ti capisco viaggiare fare anche quando ho fatto il documentario viaggiavamo un sacco eccetera bellissimo però cazzo poi devi trovare anche un equilibrio perché il nostro lavoro è bello poi non smetti mai come abbiamo sempre detto è una droga vuoi sempre di più vuoi sempre più fare contenuti più video e poi ci piace quindi quello è il problema sì è una droga perché poi non è che smetti di stare con la camera in mano torni ti vuoi entrare a fare due foto vai fai la passeggiata tipo dietro ormai col telefono poi ciao esatto come trovi però la bilancia fra la vita normale e quella sul circuito cazzi vado viaggio mi sposto eccetera non è facile per niente però in realtà io ho trovato nella mia salvezza poi sembra che sono un cazzo di veterano sono un deficiente di 24 anni che si diverte a lavorare faccio sport corro tanto mi piace un sacco correre quando voglio staccare la testa perché capita arrivi a volte la sera e senti proprio mal di testa perché magari sei stato su un video per 8 ore l'hai dovuto pensare con la pressione perché poi il problema più grande è la pressione che ti arriva da dietro perché dietro hai chi ti richiede le cose e richiedendotele così a breve termine è inevitabile sentirsi un po' sotto pressione perché arrivi a casa sei stanchissimo non vuoi fare niente a volte arrivo proprio ad avere male e non so se è una cosa positiva questa quando guardo il telefono o uno schermo mi viene la nausea non sono uno psicologo ma non credo io non sono medico come mi pare però e mi capita a volte di avere la nausea quando guardare gli schermi quindi mollo tutto vado a farmi una corsa e a volte mi capita anche di non so c'è un problema che non riesco a risolvere non riesco a farmi venire un'idea per questa cosa vado a farmi una corsa torno e ho la soluzione e ho la soluzione in realtà questa cosa qua penso sia una cosa abbastanza comune almeno anche a me capita perché tu corri? no non corro fumo mi alzo faccio una passeggiata in giro per lo studio fumando e poi mi vengo perché quando ti intestare dici su una cosa tante volte non ne vieni fuori entri in un cubo e da cui non esci più e rimani in gabbia è tremendo esatto che poi io dico corsa ma in realtà è il fare fatica la chiave che ho trovato o masochista? un po' sì forse però facendo fatica in realtà il tuo corpo è automaticamente portato a doversi focalizzare solo su quella cosa lì certo e la corsa è la cosa più semplice che puoi trovare per fare fatica perché ti metti un paio di scarpe inizia a correre finché non sei stanco e quindi facendo sì scusami no no continua no niente stavo ripetendo l'ennesima volta la fatica no volevo capire allora come mai hai deciso tipo cos'era la settimana scorsa di fare fatica facendo anche i video appendendoti tipo a una diga che cazzo è allora sì allora in realtà lì combina un po' tutto io arrampico anche per divertimento domani vado ad arrampicare famose arrampicate per divertimento anche l'altro giorno tu dici anche tu stai arrampicando capisco e quindi il mio sogno più grande è quello di lavorare sulle pareti di seguire mi piacerebbe seguire delle spedizioni in futuro non lo nascondo e quindi sì settimana due settimane fa tre settimane fa sì una cosa del genere mi è arrivata questa richiesta da parte di Red Bull non direttamente ero con una casa di produzione che amo mi trovo da dio con loro se andate sui miei social li trovate salutiamo True Color Film esatto oh sono bravi sono bravi diciamo sì loro mi piace un po' non ho detto niente non ho detto sì 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 loro mi trovo veramente bene e niente c'era questo evento di Red Bull su questa diga in Svizzera diga di Verzasca e praticamente sti pazzi folli hanno tracciato due percorsi multipitch si chiamano ossia un pitch un tiro è una salita di solito 30-40 metri che fai diciamo senza aver bisogno dove c'è una persona sotto che ti fa sicura tu sali e poi normalmente arrivi alla fine del pitch e nell'arrampicata sportiva torni giù e sale l'altro e via così nel multipitch in realtà ne fai uno sali tu che sei salito fai da sicura quello sotto che ti raggiunge e vai così e ne sali sei madonna quindi fai sei salite di fila su questa diga e ne hanno quanto faccia alta una diga 220 metri è la stessa diga dove hanno girato 007 col denai ma pensa te dove c'è lui che fa lo stante dove si gusta dalla diga e tu appeso a fare tutte le riprese cioè tu come salivi io praticamente allora io ho fatto due volte io ho girato due volte lì c'era il video di lancio dove l'ascensore non funzionava io dovevo andare a riprenderli dal basso per partire quindi mi hanno calato dall'alto verso il basso con l'attrezzatura sì 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 avevo la black magic avevo una 6k non mi ricordo vabbè in quei casi lì l'attrezzatura mi immagino si è appissata a te in qualche modo io ho praticamente ci sono questi questi lacci di sicurezza si chiamano che usi che sono hanno molti uso li puoi usare per assicurarti alla parete legandoli all'imbragoli puoi usare semplicemente per appenderti le cose addosso io avevo questo laccio che tiene 22 kg che sono cioè puoi sollevarci un camion praticamente che è la stessa tenuta più o meno che ha una corda anche da arrampicata con un moschettone attaccato direttamente al gancio della maniglia della tilta quindi entrava dentro la maniglia della tilta ed era agganciato lì così per cui tu vedi ti cagli un po' addosso io ho paura da prenderla fx3 però è appesa lì dietro che devi fregartene la tieni un po' loose che ti sta sotto non ti sta appesa qua perché sennò ti apre tutto poi devi essere immagino molto agile molto mobile quindi non può essere stretta non ti metterei mai su una diga tranquilli mi darei malattia quel giorno nel caso quindi non preoccupatevi lì era abbastanza semplice perché non dovevo calarmi direttamente ero attaccato alla cima con un'altra cima di sicurezza stavo ruttando scusate e mi calavano loro c'era un argano che rilasciava però comunque avevi il culo nel vuoto no certo sì 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 sei sceso i 200 metri quindi sti cazzi vabbè arrivi giù fai le riprese e in quelle circostanze se ti viene la pipì cosa fai? non stai mai su così tanto ti scappi fai una golden shower di solito chi è in parete penso sì la fai così ciao tanto la gravità porta giù e di solito il muro non è tanto così di solito il muro è dritto è così per cui non bagni quelli sotto interessante non l'ho mai fatto non lo so non mi è mai successo è una curiosità io non so come funzioni arrampicarsi ad un attimo è molto divertente molto figo voglio farti una domanda che a 24 anni è super complessa in realtà è complessa anche per persone come noi però a un certo punto si che poi parli come se tu avessi 40 anni sì esatto per persone come noi oh ma che sono uno strutto ma guarda ci facciamo cagare vabbè ma mi hai visto in faccia non mi dai 24 anni non mi dai 24 anni porca traia ti ha prosciugato quest'anno sì 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 infatti ti dico settimana scorsa ho dormito 10 ore al giorno per una settimana ma quest'anno facciamo un replicone sì ma più che altro sono i fuso orari i viaggi infatti non abbiamo parlato di tutta la parte di viaggio ma ci arriveremo qual è la prospettiva cioè adesso no hai fatto già un macello di cose cioè come uno pensa al proprio futuro e come si organizza dire ok adesso devo migliorare devo fare più cose devo capire però quando comincia a raggiungere determinati successi traguardi comunque cioè diciamocelo chiaramente facciamo tutti quanti robe fighe è una roba che è un lusso pensare se ci ripensi a 10 anni fa e pensi a quello che si fa ora stiamo veramente nel super lusso come si costruisce la prospettiva quando si è in questa situazione qua dove dici ho 24 anni potresti anche dire fanculo cioè cazzo di prospettiva devo costruire posso godermi questi anni sì in realtà non riesco a vivere così non vivo così e non riesco a vivere così perché in realtà non è cioè sì faccio cose fighe ma se non mi sbattessi ogni giorno per riuscire a fare le cose fighe non arriverebbero automaticamente le cose fighe cioè io nella mia posizione di adesso il culo va costruito le botte di culo vanno costruite sì 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 no sì io intendevo farsi il culo non avere le botte di culo certo però diciamo che le botte di culo in generale arrivano perché sei nel giro non è che è un giro tutto no 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 quello assolutamente anche perché poi in realtà mi capita di fare determinate cose proprio perché io personalmente sono coinvolto nell'arrampicata nello sport all'aria aperta nello sciare quindi sicuramente se un'agenzia o un brand ha bisogno di qualcuno che filmi sulla neve se vedi che tu già sci di conto tuo e ti piace farlo se un amico pensa a chiamare te esatto e in realtà tornando alla per questo noi lavoriamo con Jägermeister Kamel Kamel quando vuoi io sono qui si può fare pubblicità per le sigarette no ma in Svizzera in Svizzera puoi ok ci sono anche gli store proprio bellissimo hai dato un'idea tremenda vabbè e tornando alla prospettiva in realtà io non mi sento instabile come mi sentivo all'inizio giuro e penso che chiunque faccia il freelance può più o meno sentirsi poi si costruisce dei rapporti di fiducia e di continuità con determinati clienti però c'è sempre quell'incertezza che se non dai il tutto e se non dai il massimo e ti siedi e inizi a rilassarti io ho una paura fottuta di rilassarmi che tutto finisca no di rilassarmi un giorno e dire adesso posso riposarmi un attimo e che poi arrivi qualcuno che mi supera e sono fregato non ce la faccio io uno dei motivi per cui ho deciso nella singolarità e poi con Manu di aprire crop è stato questo perché a un certo punto ero arrivato in quella situazione da freelance dove bene o male tutto quanto funzionava anche se facevo un passettino solo bene o male portavo a casa lo stipendio mi pagavo l'affitto e tutto ho detto cazzo se hai 26 anni arrivo così mi ammazzo fra un attimo e quindi ho detto mettiamoci di nuovo i bastoni fra le ruote e cerchiamo di rendere tutto più più grosso che poi in realtà è quello che poi ti porta avanti e ti porta più in alto quello senza dubbio però ecco facendo il freelance io non so perché ho sempre questa sensazione di avere una paura fottuta per cui tipo a giugno ho beccato il covid ho balzato due gare di formula 1 pensavo che ti arrivasse la mail è stato bello ciao in realtà avevo due settimane dove potenzialmente ero malato e dovevo riposarmi in realtà mi sono rifatto tutto il mio sito perché avevo paura non investendo quelle due settimane di arrivare a fine anno con il mio sito come era il sito vecchio e di dire poi sì ok ma quest'anno alla fine non lo so io si chiama Fomo io ne ho un botto ma in realtà ti capisco perché anche io mi sento veramente in mega difficoltà quando mi rilasso al 100% che non c'è neanche un 1% attivo anche io non ci riesco infatti un altro motivo per cui mi hanno aperto crop è proprio io mi rilasso tu fai tu rilasso io faccio eh ci sta che siete sempre in movimento anche se uno dice a turno vi rilassate sì 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 ci sta e tant'è che settimana scorsa io mi sono rilassato perché il mio fisico mi ha chiesto basta fermati un attimo dormi però allo stesso tempo ero lì che dicevo cazzo ho così tanto tipo su instagram non pubblico niente ma ho tante di quelle foto di quei contenuti che ho girato tutto l'anno che non ho mai pubblicato che devo mettermi lì e fare ordine e pubblicarli esatto le cose per te quando le fai eh cazzo non ti manca fare un po' di roba per te eh sì eh lato video sì ma di tempo non ne avrai cioè sono più mi manca di più il far vedere come lavoro perché obiettivamente se guardi i miei social tu non vedi niente o quasi niente sei solo un bel ragazzotto vedi le storie vedi i posti dove sono ma bene o male di behind the scenes non riesco quasi mai a pubblicare niente e ce li ho i behind the scenes ce li ho registrati è solo che arrivo a un certo punto la sera dopo aver finito di lavorare che non ce la faccio e quindi devo trovare la forza e la sbatta quest'inverno di mettermi lì di riordinare tutto e probabilmente inizierò questo buon mini progetto dove pubblico ogni giorno ogni settimana qualcosa di nuovo andando indietro nell'anno che è passato e guardando all'anno prossimo e sperando in realtà l'anno prossimo dovrei iniziare il tran tran con in mente anche questa cosa che sarebbe un ottimo proposito esatto perché poi in realtà avevo iniziato quest'anno con questo buon proposito ma poi dovevo organizzarmi i viaggi prenotarmi gli hotel pensare a questo le assicurazioni e quindi non ce l'ho fatta perché poi sì non è che giro solo i video per moltissime trasferti io devo organizzarmi da solo per cui se sei sotto un'agenzia lo fa l'agenzia e quindi tu ti presenti alla tal ora al tal giorno c'è il tuo transfer che ti porta e mi capita anche di lavorare così però in molti altri tipo in forma un ingero per il mondo io mi organizzo da solo e quindi è follia non è tipo il terrore di perdere l'aereo non arrivare alla tappa in realtà ormai no perché dopo un po' conosci bene come funzionano gli aeroporti l'unica volta che ho perso un volo è stato in Giappone dovevo tornare la domenica sera dal GP del Giappone di MotoGP per tornare in Italia a fare il visto per poi riandare in Giappone due settimane dopo comodo ma nel frattempo dovevo andare a Singapore quindi avevo un giorno per tornare a Milano a fare il visto e ripartire ho perso il volo la domenica sera l'ho dovuto riprenotare per l'uno di a mie spese purtroppo poi per fortuna mi hanno rimborsato il primo volo che avevo ma comunque prenota un volo da Giappone a Milano la sera prima non male bello sì infatti però sono tutte cose in cui impari a convivere e che obiettivamente poi a fine anno ti guardi e dici cazzo che figata l'ho fatto tutto da sola sono diventato grande esatto e quindi questo è un altro ambito ma non ho parlato non ho parlato le prospettive in realtà mi sono perso tantissimo strano prospettive in realtà non conto di girare il mondo di più ma conto anche perché penso sia finito non conto di fare più cose ma in realtà anzi di ridurre la quantità di lavoro e aumentarne la qualità è sempre quello secondo me penso che sia l'obiettivo di tutti quanti per cui io cercherò sempre di più di dire no a progetti più piccoli nella speranza e nel cioè cercherò anche di far convergere tutte le mie forze in quella direzione nell'avere a 40 anni mi vedo a fare non lo so tre progetti all'anno e sono a posto penso che sia la prospettiva di tutti quanti e non ti è venuta mai voglia di cominciare a dire costruisco un team cioè divento io una casa di produzione o comunque lavoro con qualcun altro con me allora sì perché mi è capitato mi è capitato di assumere per a progetto miei colleghi per fortuna perché vuol dire che allora il progetto era sufficientemente grande per poter chiamare qualcun altro mi capita spesso molto più spesso di essere parte io di una crew piuttosto che di avere io in mano un progetto intero e poter chiamare un'altra crew o a volte addirittura mi è capitato di indirizzare un progetto grande verso un'agenzia che ne prendesse quindi in mano l'organizzazione e la gestione io ero parte della crew e in più ci tiri fuori la tua royalty che non è mai male questo è un altro modo di lavorare molto interessante cioè tu trovi clienti li porti alle agenzie e poi su quei progetti ti prendi anche una royalty quindi fai il tuo lavoro prendi la tua fibra di lavoro ma in più una percentuale sul budget che non è mai male però tornando alla questione casa di produzione agenzia può darsi ma in realtà il mio obiettivo più grande sarebbe affermarmi come director cinematographer o direttore della fotografia questi sono i tre ruoli che più mi interessano diciamo per cui mi piacerebbe essere riuscire a costruirmi un portfolio e una fama tra virgolette però uno stile per cui poi vengo chiamato a essere riconosciuto per quello che fai esatto quello mi piacerebbe ancora di più piuttosto che avere la mia casa di produzione poi non nego che avere una casa di produzione che poi scala e diventa più grande anche a livello economico è molto più remunerativo che costruirsi direi che c'è tempo no non ho ansia quello assolutamente quello assolutamente questo è figo no 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 voglio farti chiudere con una roba dato che siamo tutti giovani ma chi ci segue magari lo è anche di più magari ha l'età di quando abbiamo iniziato eccetera qual è la cosa che il jack di adesso avrebbe voluto dire al jack di sette otto anni fa al di là del andrà tutto bene ce la farai vai sereno che non ho mai non mi sono mai detto manda a fanculo i professori eh quello si però al di là di questo cosa c'è un ragazzo che adesso dice cazzo voglio entrare in questo mondo che sia il mondo del video delle foto della comunicazione in generale qual è il quell'augurio che gli puoi fare di guarda allora eh non è facile perché in realtà se mi guardo indietro adesso quando io ho iniziato era molto più semplice punto primo e non voglio scoraggiare nessuno però secondo me era più facile pure secondo me io penso che ci siano parlo nel mio tanti fotografi che siano quello che sono oggi perché quando ho iniziato non c'era un cazzo di nessuno anche esatto e vedo ragazzi di vent'anni che potrebbero tranquillamente fare un culo così a gente che viene definito grande fotografico quello è pazzesco io conosco io dico Lorenzo Fiale mio padre no a lui lui mi piace un sacco quello che fa è bravo io guardo quel bastardo di Dave che monta i nostri video 17 anni conosce Da Vinci meglio di Leonardo porca puttana esatto io Dave non ti conosco ma mi fido in realtà perché c'è molta più competizione adesso per cui e la vera differenza è infatti ecco ho trovato il punto dove volevo arrivare se non è qualcosa se fare video montare che sia qualsiasi cosa intorno al creare foto video in questo mondo se non è qualcosa che ti fa svegliare la mattina e dici io preferisco non dormire e fare questa cosa dimenticatelo perché ci sarà sempre qualcuno per cui questo mondo e questo lavoro è così viscerale che ci metterà più energie e farà più successo di te però allo stesso tempo io secondo me faccio un completamento di questa roba allo stesso tempo però non vuol dire che uno deve morire su questa roba qua bisogna trovare il proprio equilibrio e capire secondo me quanto puoi sono stato un po' tanto estremista io a un certo punto ero come te e a un certo punto arrivi al limite in cui non riesci nemmeno più a goderti quello che stai facendo perché secondo me il punto è comprendere che per quanto tutti noi parliamoci chiaramente abbiamo l'ambizione di diventare i più bravi tra i migliori in pace che ci sarà sempre qualcuno più bravo di voi da qualche parte c'è uno stronzo cinese più bravo di voi perché sono di più quindi come probabilità è probabile sia cinese è un buon ragionamento però sì e impararsi secondo me a godere i propri successi ogni tanto fermarsi ogni tanto e guardare dire vince però ho fatto questo penso che io non ci riesco io non riesco io ci ho messo i tuoi anni di psicologa per farci sai che forse dovrei io non vado io ho il tremendo problema che tutto quello che faccio dopo tipo un quarto d'ora mi fa cagare quello sempre quello sempre cioè io anche io arrivato adesso e non ho un progetto di cui dico questo è il mio progetto e lo sbandiererei 420 no perché ogni volta che arrivi a un certo livello i tuoi standard si alzano e quindi il benchmark di qualità o di profondità perché poi a un certo punto arrivi non più a volere la qualità da un contenuto ma ad avere il messaggio e quanto impatta chi lo guarda però si alza sempre di più stai sticendo io mi ci scontro in questo periodo c'è una parte c'è quella voglia di dire forse è arrivato quel momento di raccontare qualcosa in più dall'altra parte c'è quella pressione del devo diventare più bravo per poter creare delle cose miglio e trovare un equilibrio veramente complesso però a me ad esempio non mi adagia ma mi mette tranquillità pensare di avere ancora 28 anni comunque sì poi effettivamente sì ti metti pressione ci pensi dici di tempo ne abbiamo anzi a volte ed è anche un tema che riscontro tanto in MotoGP l'anno scorso ho seguito i piloti giovani e una cosa su cui si soffermano sempre i loro coach o allenatori chiamali come vuoi è di non sentire la pressione all'inizio goditelo perché i risultati poi arriveranno ma se non te lo godi all'inizio arrivi quando poi conta davvero metterci l'energia che non ne ha ci sta figo sono d'accordo Jack noi parleremo per altre 100 ore probabilmente ma una puntata di un'ora direi che è sufficiente al momento sei l'ospite con la durata più lunga veramente scusate non avevamo non avevamo dubbi sei anche l'ospite col più entusiasmo verso la vita che conosco quindi sicuramente ci sarà modo magari tra qualche anno di fare una replica volentieri per parlare di dove sei dove sarai e chissà e di fare qualcosa insieme mi piace speriamo non lo facciamo da un sacco ma davvero sai com'è io non posso venire a singapore io e Joey insieme è stato e Jack insieme è stato il video per MSI è vero per quel portatile è vero in giro per Milano a tirare fuori speriamo che la prossima cosa sia un pochino più bella un po' più stimolante grazie mille per essere stato qui con noi speriamo che i nostri ascoltatori abbiano trovato utile e abbia acceso qualcosa questa puntata come sempre vi lasciamo in descrizione tutti i link per andare a vedere quello che Jack non pubblica esatto sul sito pubblico i lavori almeno quello vi lasciamo il sito e grazie mille ci vediamo presto grazie mille a voi ragazzi ciao ragazzi ci vediamo alla prossima ciao